Nulla è impossibile, basta volerlo ed è proprio vero. In tanti ieri hanno risposto alla giornata di solidarietà per essere al fianco di Raffaele, 42enne di Mercogliano affetto da SLA. Viale San Modestino infatti si è trasformato in un viale d'amore dove ognuno ha risposto presente all'appello per Raffaele, l'amico di tutti noi. Una giornata quella di ieri tra solidarietà, momenti di svago, sport e gastronomia per aiutare concretamente ad essere al fianco di Raffaele, dimostrando ancora una volta che fare del bene a chi ne ha bisogno fa bene prima di tutto a noi stessi. Raffaele entro novembre dovrà tornare a Miami per sottoporsi ad un nuovo e costoso ciclo di terapie, un viaggio fondamentale per consentire a Raffaele di continuare a sperare e lottare contro la sua malattia.